bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono Xyuder e io sono la Pamina oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale dopo un bel po' che non facevamo un video assieme perché non stavo bene col mio profilo dark lady guardate due baolozzi belli interessanti e sugosi abbiamo due bauli magici da apri ragazzi speriamo in una leggendaria in due bauli la devi trovare dai non puoi non trovarla non puoi non trovarla ma con la sfiga che mi ritrovo quale leggendaria vorresti dimmi un po' vorrebbe la strega notturna giustamente che la usa dai 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 ragazzi non perdiamo tempo facciamo una bella partitella di riscaldamento poi andiamo a aprirci il primo poi ne facciamo un'altra e ci spariamo anche il secondo siamo contro angelo m dei iuino dasha board iuino dasha board non sappiamo che clan sia ragazzi ma noi apriamo subito subito con una strega e tu puoi portare anche la fireball all'undici tra l'altro ti mancano il dinero non ottengo dinero ai 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 allora vediamo lui con un bella è un mago di ghiaccio di qua direi di non farci prendere no non è da solo non è da solo non ti preoccupare vediamo se il giant passa alla torre prende gli sgherri peccato peccato mini pecca sopra cattivissimo prepotentissimo lascerei andare il boia non mi interessa lascerei andare il giant 2004 e 25 2118 1811 il danno alla tower qua andiamo invece a stringere con un bombardino e una strega notturna attenzione fireball vortex esatto hai detto proprio bene ma ci porta la torre a 2234 ma noi siamo comunque in vantaggio 1811 per noi possiamo riaprire eventualmente con un tris di sgherri da dietro e partirei di nuovo prima che gli sgherri arrivino dall'altro con il gigante e lo spiritello del ghiaccio prepariamo la fireball quello mi mette il boia io aspetterei ancora un istante e dentro il giant andrei adesso con la fireball che sembra proprio azzeccata e va a colpire mini pecca e boia ragazzi il giant danneggia gli mancava uno strunz hai proprio ragione però andiamo con il bombardino sul mini pecca bombardino op ragazzi a quel livello che ce l'hai te fa troppo ma già è al 12 guardalo lì che si tira giù anche il boia ciao ciao ma quanto sono forti le tue carte gigante royale già bello che è andato 203 la torre vediamo e oggi uno del mio clan mi ha chiesto pami hai scioppato no gabri mi dice pami ma come fai a avere le carte così alte e a digli ho sempre usato questo deck infatti gli ho detto sempre usato sì gli ho detto però ho fatto una scioppatina quando ho iniziato a giocare e assieme la prima volta mi stiamo dicendo assorta nel senso vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo ragazzi a fermare bene giù così intanto la torre e anche il credo fosse il mago di ghiaccio dietro bene la 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 strega ok perfetto stava andando di nuovo qua potremo sì dai che la portiamo a casa ci difendiamo ci difendiamo 1310 bene ancora al mini attenzione super cattivo entra con il royal di nuovo c'è il rischio c'è il rischio ma potremo sorprenderlo ad esempio piantando giù un bel giant vediamo se si salva la strega 10 secondi alla fine 9 8 7 6 5 4 3 2 1 e andiamo a portare a casa la prima partita da lui molto arrabbiato lui molto molto arrabbiato ne ha tutto il diritto ne ha tutto il diritto 30 trofei per la papà mina prego 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 tutto via quella vita che ce l'ho qua va bene 7 skip con 1320 di gold molto good un gigante royal che si era perso dalla cucciolata tre macchine volanti queste sono le macchine di sono 4 stregoni mi viene mi viene il colpo come la vedo greco ma quante rare ti dà 10 2000 rare ti dato dai 101 pipi dai dagli la strega almeno dagli la strega la strega no è la furia è la furia questo veramente penso sia il baule del bolle magico più triste che abbia mai visto nell'ultimo anno di crash ragazzi vediamo forse non gli è piaciuto come abbiamo vinto la partita andiamo a vincerne un'altra dai contro chi siamo siamo contro vittor 13 e allora la portiamo a casa ragazzi altro che sport 4.238 secondo me è un pochettino più estronze vediamo se riusciamo ad andare vediamo se riusciamo è un po più estronze allora attenzione così bene che deviamo il caballeros si va benissimo va benissimo non c'è problema adesso li voglio vedere lui a fermare l'attacco che sta per arrivare con strega e sgherini dietro non mi spara una fireball no gioca un boy altra giustamente giustamente fanno molto male ma sembrerebbe che la situazione non sia delle più rose e per noi giant tira una legnata ragazzi la strega sta andando a colpire 1.835 scusate 1.835 anche nei miei video me li rovino non è che te li rovino mi esce mi esce la prossima volta che feruti non ti mettono i like poi come non mi mettono i like non è che faccio apposta lo sanno i ragazzi lo sanno non faccio apposta chiedo schiuma allora andiamo avanti andiamo avanti vediamo che il giant sta entrando molto tranquillamente andrei anche a pallafocare quel boia di là e che me ne frega andate avevi già tirato giù la torre di sinistra bene ecco c'è il giant all'undici full vita ragazzi che se ne può tranquillamente andare ma che cosa ci abbino fammi salire un po di elisir che questo adesso attacca con lo grinder aspetta allora streghetta la mettiamo di qua sei bravo attaccava di là con lo grinder sulla destra invece lui non attacca convinto che andava invece non è andato oh oh il mega fulminozzo va bene è un fulmine vedi è alto secca secca prendilo te un fulmine poi me lo dici se non ti secca allora andiamo ancora di là ragazzi non si capisce bene il posizionamento del giant a caso a caso completa cose a caso bene così però guarda guarda le tue cose a caso guarda lo sgherrino no è 15 secondi alla fine pensavo facesse più male pensavo niente andiamo col bombardino da dietro dovrebbe piazzare un giant un uno grinder qua fra qualche secondo lo piazza adesso io andrei molto tranquillamente a pallafocare tutto ecco easy proprio ancora non ci riusciamo a blindare nonostante tutto l'attacco del suo grinder andiamo col bombardino che tira giù il primo boy altre 33 secondi alla fine stiamo entrando credo che anche questa partita sia completamente a senso unico e andiamo addirittura a tirargli giù le tre torri a un secondo dalla fine questa parola abbiamo fatto a tre coloni di trovare la leggendaria è porco giudo devi trovare la leggendaria dai trovami sta leggendaria fuozza 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 ragazzi mi raccomando se avete ancora fatto super pollicione in su per questo video se vi sta piacendo super like per la pamina che è qua con noi oggi a registrare 1320 di gold molto good 7 skip e vai 4 cavalleros il cavalleros non è male che c'ha le banane sotto il naso 5 tesle ok questa la usi ce l'hai scusami scusami 10 zap molto bene molto bene 36 assorata queste assorata non ci piacciono ah non arriva 45 non arriva anonet l'ho vista per un attimo sbrilluccicare invece cos'è questa 631 su due non l'ha mai guardata la torre inferno modo che schifo cinque carrelli della spesa veramente una roba adesso gli fai una denuncia leggendaria così trovo la leggendaria secondo me trovi 5 carrelli della spesa che nel leggendario non so perché beh ragazzi questo era il cesto opening doppio magico mi raccomando iscrivetevi al canale mettete tanti like e noi ci vediamo presto ciao ciao ciao